Nell'ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto un soggetto classe 1966 con precedenti penali e di polizia specifici per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando nei pressi dell'abitazione dell'uomo, l'attenzione degli agenti è stata attirata da uno scambio anomalo tra lo stesso 56enne e un altro soggetto, noto assuntore conosciuto dal personale operante, che faceva propendere per una verosimile cessione di droga. Pertanto i due sono stati prontamente bloccati e identificati. In considerazione dello stato di insofferenza al controllo da parte del 56enne, si è proceduto a effettuare una perquisizione personale con l'uomo che è stato trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. La perquisizione, estesa anche all'abitazione, ha permesso di rinvenire, nascoste all'interno di un pensile della cucina, 10 dosi termosaldate di eroina dal peso di oltre 14 grammi, oltre a 7 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, un libro mastro con annotate cifre e nomi di acquirenti e la somma di 75 euro in banconote di vario taglio, provento dell'attività di spaccio. Il secondo soggetto invece è stato trovato in possesso di tre dosi termosaldate di eroina del peso di un grammo, ricevuti poco prima dal pusher dietro il corrispettivo di una somma di denaro. In considerazione di quanto rinvenuto, il 56enne è stato condotto presso gli uffici del commissariato ed espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Continua senza sosta l'attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto del fenomeno delle piazze di spaccio nel territorio Ipparino.